Francesco, partiamo, non le chiamate Corrado, tra un po' faccio il ponte di Astamobili, in ripresa Parla, Corrado, parla, K No, Corrado, abbiamo passaggio, questa via è così da noi Sì, Corrado, appena appena ti ho sentito, vai ancora che sto riprendendo Vai, fai un passaggio adesso, vai Eh, sto ricevendo quel remer Oh, quanto traffico, pur fino a bar, mocca la miseria, che ritardo mi sta facendo fare Oh, il remerco traffico, oh, io sto facendo